ciao a tutti e benvenuti al mio hello kitty sfida in cucina la sfida consiste nel creare un uovo dolce per il mio locale il vincitore comparirà sul mio menu sarà divertente e delizioso mi piace fare il giudice date il benvenuto ai nostri due pasticceri pan pan purino e cinema roll diteci cosa ci preparerete di buono una torta all'ananas capovolta da mangiare in equilibrio sulla testa una torta alla cannella non capovolta da mangiare senza stare in equilibrio sulla testa sembrano entrambe super deliziose buona fortuna concorrenti pronti partenza dolci in forno ricordate i giudici non è il disordine che conta ma il risultato ora cinema roll aggiunge un pizzico di cannella mentre pom pom oh aggiunge un sacco di ananas oh 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 touchdown oh grazie cinema roll oh hai messo la cannella sul mio ananas e tu l'ananas sulla mia cannella il tempo sta per scadere oh 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 tre oh abbiamo perso entrambi due uno Uno! Ma che cos'è? Non lo so, un pezzo di arte moderna? Non promette per niente bene! Allora, che dolce avete preparato? È la luna, ovviamente! Davvero? Cioè, esatto! Ok, giudici, è il momento di assaggiarla! Dopo di te, Kurami! No, non potrai mai, vai pure tu, Karabi! Hello Kitty è la presentatrice! Perché non assaggi tu per prima? Ok! Vado! Non voglio guardare! Un piccolo passo per Hello Kitty, un grande passo per l'umanità! Oh, un perfetto mix di cannella e ananas! Avete vinto entrambi! Evviva! Pom Pom, grazie mille per la tua idea! Grazie a te per la cannella! Ehi, questa è una chiara dimostrazione di come l'unione faccia la forza! Posso averne uno da sport? Ciao amici! Grazie per aver guardato le avventure di Hello Kitty e i suoi amici! Iscrivetevi al canale YouTube e non dimenticate di attivare le notifiche così da non perdere le nostre prossime avventure! A presto!